Signori vi presento, non mi posso alzare, vi presento Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana lo faccio attraverso due persone straordinarie, Mattia Fiandaca che ritrovo, ben trovato Mattia gastronomo responsabile dei progetti della comunicazione di casa Artusi e accanto a lui la ragazza che vorrei essere Corrada Ricci che fa parte dell'associazione delle mariette, ben trovata e svolge un ruolo fondamentale nella scuola di cucina di casa Artusi Pellegrino Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, questo libro che ho per le mani sarà e continuerà a essere il libro per chiunque voglia davvero dire ho imparato a cucinare bene perché, caro Mattia, ben trovato Grazie Paola Questo meraviglioso signore, devo dire con una quantità di barba e cosa erano? Importante I favoriti I favoriti I favoriti, cioè gli si appoggiavano sulla giacca Classico uomo borghese dell'Ottocento Dell'Ottocento Questo meraviglioso signore dirà provate, provate, provate Cioè lui prevedeva anche il concetto dell'operazione non mi è riuscita Ma ci riprovo Ci riprovo Esatto, permetteva lo sbaglio in cucina Lui sotto il titolo scrive manuale pratico per le famiglie Ha un chiaro obiettivo, quello di educare le massaie che lo leggono, le famiglie borghesi che lo leggono a sperimentarsi in cucina Ascolta Mattia, chi era Pellegrino Artusi? Mi rendo conto che fare una fotografia sia troppo poco Però chi era questo signore? Allora, lui nasce a Forlimpopoli il 4 agosto del 1820 Una famiglia di commercianti Quindi lui continua l'attività di famiglia Si è sempre occupato di commercio nella vita All'età di 71 anni Quindi in pensione, per passione Scrive un libro di cucina A 71 anni? A 71 anni Il libro esce nel 1891, quindi Artusi ha 71 anni E si occupa appunto di cucina per passione Appunto in questi ultimi 20 anni della sua vita Dal 1891 al 1911 Al 1911, tra poco arriviamo a casa Artusi a Forlimpopoli Non prima di aver fatto notare che oltre a indicare dove si vendesse questo libro Si fornisce anche l'indirizzo di casa dell'autore Perché possano, cara signora Corrada, le signore che hanno una ricetta speciale Le spediva ad Artusi E lui intanto faceva provare Nella sua cucina Da Marietta e dal cuoco Provavano a fare le ricette Quando hanno fatto un pollo alla cacciatora La Marietta si lamentava Diceva Bensì cinque galletti abbiamo sciupato Per arrivare a fare l'ultimo buono Ah però Quindi era una cosa importante Attenzione la signora ha detto la Marietta Noi abbiamo parlato delle Mariette E adesso dobbiamo anche spiegare chi fosse Marietta Marietta era la governante di Pellegrino Artusi Governante, cuoca, un po' tutto fare Era una giovane donna fiorentina Perché lui si trasferirà Lo spiegheremo poi a Firenze A Firenze E lì provavano le ricette Allora provavano le ricette E attenzione Artusi lascerà in eredità i diritti di questo libro A Marietta e al cuoco Grande gesto questo anche Un signore buono, valido e generoso Amava la sua terra però Non ha mai Amava forli in popoli In una maniera importante Lei di dov'è signora? Di forli in popoli Guardi l'avrei detto Sono di forli in popoli Ha tirato fuori sta bandiera Amava forli in popoli Puoi andare anche come voi E sono molto orgogliosa di questa struttura che hanno molto La casa Artusi Poi vi raccontiamo chi siano le Mariette Attenzione Le Mariette possono anche essere degli uomini Tutti coloro che ne sanno di cucina Mattia Casa Artusi a forli in popoli che cos'è? È un centro di cultura gastronomica Che nasce nel 2007 Quindi l'eredità di Artusi torna a forli in popoli Appunto perché Artusi vive gran parte della sua vita a Firenze Ma decide comunque di lasciare la sua eredità alla città natale Nel 2007 nasce questo centro culturale Tanti spazi Spazio eventi Biblioteca gastronomica Lo studio di Artusi con il suo archivio E scuola di cucina Perché si ricostruisce un po' Quella dimensione sapere e saper fare Teoria e pratica Che Artusi racconta nel suo libro Che Artusi racconterà per tutta quella parte della sua vita Nella quale per noi lui sarà L'Artusi Allora La signora Corrada È una delle prime volontarie Dell'associazione delle Mariette Quanti volontari ci sono oggi? Ma siamo partiti in grande stile Nel senso che Dopo che è nata Casa Artusi Abbiamo pensato di fare questa associazione Della persona che aiutava Artusi Quindi dedicato alla Marietta Alla Marietta Sabatini Che era la sua donna di casa E quindi sapeva benissimo Come comportarsi verso di lui Perché era anche la sua governante Quindi faceva un doppio ruolo Signora Corrada Mattia Ma proviamo ad immaginare Di poter avere una macchina del tempo Tornare indietro e vedere Quella cucina e quella casa Nel frattempo stiamo vedendo Sì Questa è Casa Artusi Meraviglia di Casa Artusi In quel momento Questo grande signore Quella grande Giovane Ma donna Che aveva le spalle larghe Sapeva scrivere a quei tempi Che sapeva scrivere Sapeva scrivere E leggere Artusi educherà Marietta Marietta Lo fa davvero essere Un gastronomo contemporaneo Un uomo contemporaneo Siamo fino a 800 Inizio a 900 L'epoca ovviamente La cultura era riservata soltanto Sì diciamo che le donne Sì Invece Artusi passa Tante delle sue sere con Marietta Le insegna a leggere Le insegna a scrivere E quindi La forma La forma Signori Insegnare a fare la pasta La piadina Tutta la tradizione romagnola Insegnare a non avere paura Del cibo Che si tratta Che si prepara Questo è il lavoro Delle Mariette Tra un istante Vi parliamo anche Del premio Marietta Con una specifica Però importante Me la suggeriva La mia cara Sara Cacioppo Artusi Non era un cuoco Cioè Artusi Non Era un cuoco No Quindi La sua passione Per la buona cucina Ma non solo Ne farà l'uomo Poi leggeremo il suo decalogo Insomma Ne farà l'uomo Che tutti Ancora oggi Mattia Conoscono come L'Artusi Cioè Se ti arriva in regalo Questo libro Che arrivava in regalo A tutte le ragazze Che si sposavano Sì Eri già 500.000 Passi avanti Sì Esatto Lui col fatto di Non essere un cuoco Di professione E anche con la scelta Del suo linguaggio Molto semplice Molto chiaro Effettivamente si mette A livello Delle persone A cui scrive E quindi non lo vedono mai Come un punto Inarrivabile Di cucina Ma appunto Un punto di riferimento Con cui parlare Dialogare Confrontarsi Allora in questo momento Mentre io vi parlo Anzi Mentre noi ascoltiamo Il racconto di Corrada E di Mattia Chissà quante di voi Si ricorderanno Che in un angolo Della libreria Di casa C'è un Artusi Perché Quel libro Non solo in Italia Ma quel libro Si trova In tutto il mondo E tra poco Vi spiegheremo Anche il perché Come fece Quei viaggi Ora Signora Corrada Esiste il premio Marietta Che io non vincerò mai Chi vince Il premio Marietta? Il premio Marietta Non lo vinciamo noi Come Marietta Tutor di casa Artusi Perché Non sarebbe corretto L'avete già vinto Insomma No Non abbiamo vinto Però Lo vince Uno che ha voglia Di cucinare Ma che non è Essenzialmente Uno chef Deve inventare E portare Una ricetta Che viene valutata Tante ricette Vengono valutate Poi selgono Una serie di persone E cucinano Dentro A casa Artusi Viene assaggiato Da personaggi esperti E quindi Si arriva Al premio Marietta Allora Guardate intanto Questa fotografia Questa fotografia Siamo noi Che cuciniamo Nella sala Nella sala Di casa Artusi Nella scuola Nella scuola Dove ci sono 20 postazioni Siete molto sedere? No Siamo molto dolce Almeno personalmente Sono molto dolce Perché voglio insegnare L'amore Per la cucina Di casa Che è una cosa Diversa Da essere self L'amore Per la propria famiglia Un tempo Si cucinava La pasta Fatta in casa Che ora Non si cucina più Ma no signora Ha ragione Per amore E perché arrivavano Dei prodotti Poveri Farina E uova Allora Facciamo tra poco La lista Di quello che Artusi Considerava La serie Di elementi Imperdibili Per cucinare Veramente bene Alzi la mano Chi tra voi Non si ricordi La mamma Che preparava Le fettuccine O le tagliatelle O le pappardelle A seconda di come Si montasse la macchina La domenica mattina Mattia Il libro Viene pubblicato Viene pubblicato Nel 1891 Abbiamo detto A complete spese Dell'autore Esattamente E venderà Diventerà Tra i più letti Tra i promessi Sposi E Pinocchio Ora Questo Grandissimo successo Perché Ma ci sono Secondo me Diverse ragioni La prima ragione Appunto È Quello che abbiamo detto Prima Non è un cuoco Di professione Lo scrive per passione Quindi Effettivamente È un libro Che parla In maniera molto chiara A tante persone Sceglie il toscano Il fiorentino parlato L'Italia Si era appena unita Da 30 anni Quindi Ha anche l'obiettivo Di costruire Un'identità nazionale Parlando di cucina È diciamo Sempre riuscito In una missione Dove i promessi Sposi con Manzoni Non si è riusciti A costruire Quell'identità Riesce appunto A unificare gli italiani E poi Coinvolgere lettrici Quell'indirizzo Che hai citato Paola all'inizio Dà effettivamente Un ruolo di food blogger Ad Artusi Cioè Le persone possono Spedire ricette Possono spedire lettere All'autore Quindi lo arricchirà Rispetto alla prima edizione Esatto La prima edizione Che è questa Che vedi qui davanti E' piccolina Scusate Fermo lì Teresa Fermo lì Adorato il mio Alessandro Teresa Il regista più bravo Che esiste E anche il più paziente Nei miei confronti Danno questo Danni Questa è la prima edizione Esatto Che è più magrolina Quindi un po' più piccolina 475 ricette Arriviamo a quella Del 1911 Con 790 ricette 790 ricette Quindi arricchito Dalla terza edizione 1897 Inserisce l'indirizzo Di casa sua E esplode Il fenomeno Provate ad immaginare Questi Questi sacchi Di lettere Che arrivavano Arrivavano a casa Artusi Che riuscivano Allora Signora Il Adesso parliamo anche Della passione Della signora Corrada Ricci Per la Per la cucina E di quello che lei ha fatto Diventata un pochino Più grande Lei ha deciso Di fare un corso serale Ma adesso ve lo racconta lei Molto grande Questo libro va in dono A tutte le giovani spose Ma questo libro Andrà in giro per il mondo Perché i tanti italiani Che per lavoro i più ricchi Piuttosto che non i migranti Partiranno Si porteranno l'Artusi Dietro In baligia Con loro Infatti questo spiega Il motivo per cui Artusi è tradotto In quasi 12 lingue del mondo 12 lingue Abbiamo presentato Recentemente in cinese Quindi anche culture In cinese Esatto Anche culture Che apparentemente Sono molto distanti Dalla dieta mediterranea Dalla cucina di Artusi Parlano di Cultura italiana Con il libro di Artusi Allora Allora Racconteremo tutto Ma prima La signora Corrada Che Io poco fa Ho citato La cucina della mamma Ma signora Lei la mamma Purtroppo l'ha persa Molto giovane Molto giovane Però Si è caricata sulle spalle La mia famiglia Come ragazzina Quanti anni aveva Quando ha perso 16 anni 15 anni Del 61 Era proprio Una bimba Adesso 16 anni Sono donne Però Quei tempi lì È stata Però la passione C'era già da prima Avevi i nonni Fornai E quindi Mia Mia mamma Era una casalinga Cucinava E con Mattia E di famiglia Tutti sappiamo cucinare Ma non sappiamo usare I coltelli Le materie prime Le usiamo a caso Invece lì si impara Tutto Signori C'è sempre tempo Al grido di Non è mai Troppo tardi E voi sapete Con che entusiasmo Io lo dica Noi tra poco Vi portiamo Dentro la cucina Di Casartusi Vi raccontiamo Il libro Di Mattia Fiandaca Perché c'è anche Questo libro speciale Che questo ragazzo Che studia E fa Del cibo E della bontà Del cibo La sua professione Vi racconteremo Un sacco di cose Lui l'ha scritto Noi abbiamo Tantissime cose Da dirvi Abbiamo un elenco Da farvi Però ora ci fermiamo Soltanto per un attimo Ma restate con noi Guardate lì Sono io a casa mia Questa è mia Casa mia Celebrando Celebrando La cucina Di Pellegrino Artusi Bandiera italiana Nel mondo Della miglior cucina Possibile Al mondo Che tutti ci invidiano E tutti copiano E studiano Mattia Fiandaca Gastronomo Responsabile Dei progetti Della comunicazione Di casa Artusi Tanto giovane Tanto bravo E la signora Formidabile Corrada Ricci Una marietta Che insegna Nella scuola di cucina Di casa Artusi E che durante la pubblicità Mi ha detto Va bene tutto Ma io devo parlare Delle mariette Prego signora Le mariette Le mariette Sono sorte Come associazione Di volontarie Volontarie Per casa Artusi Quindi svolgono Soprattutto La funzione Di insegnare Le nostre tradizioni In casa Artusi Con gli scolari Che sono i vostri scolari Signora Scusi la domanda Un po' Tutte l'età Un po' Tutte le Non so spiegare Io ho visto Migliaia di persone Venire a casa Artusi Per imparare A fare la pasta Perché gli insegniamo Proprio l'amore Della pasta Non è che noi Vogliamo vedere Bravi chef E' una cosa Molto importante Per la famiglia Che qualcuno Sappia raccontare Voi celebrate Il buono Insegnate Il buono E' bello Da portare in famiglia E' la storia La storia Della nostra Quindi l'associazione Nasce Sì per aiutare Casa Artusi Fare le volontarie Insegnare Nei corsi Ma però Ci muoviamo anche Nelle scuole Nelle scuole Nella Facciamo tante altre cose Tanti eventi Culturali Anche in Casa Artusi Che ci danno La chiesa dei servi Sempre sul cibo Sempre sul cibo Sempre sul cibo I miei nipotini sono Sono dei ragazzi I miei nipotini Uno 20 22 E 25 Scusate se vi ho chiamato Nipotini Abbiate pazienza Che mangiano tanta pasta Ma mangiano tanto bene Ma mangiano tanto bene Sono cresciuti tanto bene I suoi nipotoni A questo punto Piatto preferito Dei nipotoni Pasta Asciutta Tagliatelle Ravioli Cappelletti in brodo Anche ma Strozzapreti Perché lo strozzaprete E' la pasta più povera Che abbiamo Oh oh Colleghiamoci a questo Signore E torno da Mattia Il povero Cioè Il prodotto Che Artusi scrive Innanzitutto La stagionalità Sì Innanzitutto Partendo da quello Che di più semplice Abbiamo davanti Lavorare su Quella materia Non ci immaginiamo Delle anatre Laccate Cose Incredibili Solo che cucinare bene Il semplice è difficilissimo Diventa ancora più difficile Di fare Delle grandi ricette Rivisitate Destrutturate Noi Ci occupiamo di cucina domestica Promuoviamo la cucina di casa Che è stato un po' Il lavoro che ha fatto Artusi Con la raccolta Delle ricette Nel suo libro E noi spesso ospitiamo Anche dei docenti Che vengono a fare lezioni Per i nostri corsi di cucina E spesso dicono Però è un libro Comunque superato È un libro che comunque Necessita di una rivisitazione In realtà È ovvio che molte ricette Materie prime Ingredienti Sono cambiati Molte tecnologie Non c'erano all'epoca Però in realtà Quel decalogo A cui fai riferimento Né la prova lampante Cioè I valori sono sempre gli stessi Cioè Utilizzare materie prime Di stagione Di qualità Rimanere semplici in cucina Lo diceva già Artusi All'epoca E quindi Questo ci aiuta oggi A far capire Che Artusi È un messaggio attuale E allora Noi Anzi Io Al grido di ciao Unvidiosi A quelli che dicono Che l'Artusi Sia superato E provaci a cucinare Come l'Artusi Vi faccio entrare Nella scuola di cucina Di casa Artusi Ah Si potesse entrare E uscire subito Così Imparati Avendo Avendo imparato Tutto Nessuno ha imparato L'ho detto In maniera orribile In italiano Casa Artusi Cucina Guardate Buongiorno a tutti Sono Matteo Milandri E benvenuti Nella scuola di cucina Di casa Artusi Il tempio Della cucina italiana Qui troviamo Qui troviamo turisti Appassionati Di cucina domestica Che vengono E fanno un'esperienza Sia a livello culturale Che a livello pratico Cosa faremo oggi? Faremo la ricetta Numero 78 Di Pellegrino Artusi Che è il risotto Alla milanese Pellegrino Artusi Nel suo manuale La scienza in cucina E l'arte di mangiare bene Lo propone in tre versioni Questo sta a identificare La diversità Che c'è Non solo all'interno Del suo libro E del suo manuale Ma anche una diversità A livello culturale E nazionale Partiamo con la cipolla La sbucciamo La facciamo fine fine E iniziamo a metterla Sul pentolino Con una noce di burro La facciamo andare Dolcemente Fino a quando Non avrà perso Metà Del suo peso circa E non sarà evaporata Una buona parte di acqua A questo punto Versiamo il riso Lo tostiamo bene Aggiungiamo Un pizzico di sale E lo lasciamo andare Fino a quando Non diventerà bello caldo Sfumiamo Con Il brodo In questo caso Brodo di carne Come ci suggerisce Pellegrino Artusi E iniziamo la cottura 10-12 minuti circa A seconda del tempo Di cottura del riso A metà cottura Versiamo All'interno Lo zafferano Precedentemente Reidratato Col suo brodo Questa ricetta Che è la numero 78 È la ricetta Più basica La più semplice Di risotto alla milanese Pellegrino Artusi Nella ricetta Numero 79 E nella numero 80 Utilizza due ingredienti Che in questa Non troviamo Nella 79 Utilizza Il midollo Mentre nella 80 Utilizza il marsala Per sfumare Terminiamo la cottura E andiamo a mantecare Con una noce di burro E un po' di parmigiano Il risotto alla milanese Numero 78 Di Pellegrino Artusi È pronto Bravo Matteo Bravo Matteo Bravo Matteo Due bravi ragazzi Due bravi ragazzi Sono i miei cocchi I miei cocchi Lei deve essere di una dolcezza Straordinaria Come sono Matteo? Non abbiamo mai visto arrabbiarsi Effettivamente tanto Qualche mattarello un po' volante Perché mi fanno gli scherzi Mi fanno gli scherzi Di che tipo? Mi danno il mattarello più torto Da tirare la pasta Mi fanno dei piccoli scherzi Però ci vuole bene Ogni tanto ci porta i tagliolini da casa Quando abbiamo bisogno di far pausa Non male Non male Facevamo riferimento Lo voglio citare il libro di Mattia Fiandaca Tu hai scritto proprio un libro sul brodo Sul brodo Sì Il brodo è un'arte Il brodo è un'arte L'abbiamo visto anche nel risotto Dell'Artusi E simboleggia un po' Quella cucina domestica Che è tanto importante in Emilia Romagna Mattia Fiandaca è stato capo pasticcere Ed albergo Cuoco Si è laureato in scienze gastronomiche Ed è arrivato per fortuna di casa Artusi E anche sua per carità Ma per fortuna di casa Artusi A questa forlimpopoli Che diventa veramente un belico del mondo Per chi ama la buona La vera buona cucina Perché questo sarà Signora Il miglior maestro è la pratica Diceva Artusi È la pratica Bisogna insistere Bisogna fare le cose Magari la prima volta si sbaglia Mattia avete visto che ha messo la cipolla con un po' di buccia Eh lo vediamo Ma ha un senso Perché? Perché colora Dà un po' di colore Alla 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 composizione Alla composizione del riso È solo colora Non ha il profumo della cipolla Quindi lui ha lasciato solo un velo di buccia Proprio pochissimo La signora Corrada Ricci è meglio del commissario Magretto No Dico perché ha notato questa cosa No Per farvi capire che non era un errore Ma una cosa voluta Ma una cosa voluta Bravissima Allora Ingredienti naturali di qualità di stagione Che cosa Oltre scusate Seriamente parlando Ah ecco Non ho fatto vedere La dimensione dei cappelletti Aspettate un attimo Perché questo è un altro libro L'Artusi si preoccupa E si premura Anche di fare questo Vedete questo cerchio Nero È un coppapasta È una misura Che deve avere il coppapasta La misura che deve avere il coppapasta Ecco qua Cerco di non storcere troppo il libro Allora Perché dobbiamo subito uscire Oggi pomeriggio E andare a comprare Qualora non l'avessimo in casa Questo libro Perché riesce Con le sue ricette Artusi A raccontarci Un po' la nostra storia In realtà Noi L'abbiamo detto prima Costruisce questa identità nazionale Perché Non sono ricette Ingredienti e procedimento No Molto fredde Molto prescrittive Ma sono delle storie Leggendo tra quelle righe Con questo tono schietto Ironico Proprio da buon romagnolo Si riesce un po' A conoscere anche parte di noi stessi Lui vivrà Per nostra fortuna A conoscere parte di noi stessi Hai perfettamente ragione Mattia Lui vivrà altri Vivrà questi vent'anni Da Da numero uno Della cucina italiana Quindi mondiale Morirà a 91 anni 92 Per l'epoca Sì Per l'epoca Sì Successi Sì Carne cucinata Con tanta cura Era una carne Molto sana Quella dei tempi Di Mattusi Anche oggi esiste carne Molto sana Ma diciamo che eravamo Lontani dall'orrore Della Di una produzione Troppo Troppo Da tempi moderni Intensiva Intensiva Sì Troppo intensiva Scusate il paragone Qualità dei prodotti Molta pazienza Lo ripetiamo E alla fine Tentativi su tentativi Su tentativi La Marietta Quanto vivrà ancora? La Marietta Ha vissuto ancora Tanto Dopo Che si è poi Trasferita Al suo paese E noi come omaggio Le Mariette Siamo andati a Firenze Dove è sepolta Sia Marietta Che l'Artusi Non sono nello stesso posto Abbiamo omaggiato Marietta Perché ci ha lasciato Questa storia Molto importante Una storia importante Di amore Di cucina Che deve profumare Dalle fine Di cucina E Di avere seguito Questa persona Nel suo percorso Per tanti anni Mattia Mattia Fiandaca Oggi Studiare sull'Artusi Oggi In cui C'è poco tempo In cui pensiamo Che Che la scarsità Del tempo a disposizione Corrisponda anche Ad una cucina Che Attenzione In Italia Si cucina benissimo Ci sono anche persone Fortemente appassionate Ma io parlo di una media Penso alle mamme Le mamme Che devono correre Presso i loro bambini Giustamente Ecco Imparare ancora una volta Da questo signore Ci restituirà Anche un po' Di pace in più E di quiete in più Di quiete in più Sì Di serenità Cioè Come dicevi tu Paolo In un tempo In cui c'è sempre Meno tempo per cucinare Prendersi del tempo Per cucinare Assume un altro significato E si può fare Si può fare Anche con cose semplici Anche solo con un sugo Di pomodoro Ma con amore Signora Corrada In 30 secondi Adesso Che è ora Proprio di pranzo 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 Che facciamo Se abbiamo Del pomodoro Del basilico E della pasta A casa Facciamo una salsa Semplicissima Il profumo Della cipolla O dello scalogno Che noi in Romagna Usiamo tanto E lo facciamo Sobollire Mettiamo il basilico Saliamo Un po' di pepe O di peperoncino A seconda E viene un sugo Meraviglioso Da fare degli spaghetti Da fare Perché non facevamo La pasta Industriale Una volta Facevamo solo Tagliatelle Perché la pasta Industriale Costava Mentre la pasta Uova e farina In casa c'erano sempre Ecco perché Parola di Marietta La signora Corrada Ricci Grazie infinita E Natia Piandraca Grazie infinita Nel nome di questo Straordinario signore Pellegrino Artusi Ora TV2000 E l'Ora Solare Sostengono Il progetto Di 30 ore per la vita 30 ore per la vita E il progetto Home Home Casa Più che mai In questo momento Per costruire Una casa Per le famiglie Di quei bambini Che sono in cura Presso il policlinico Agostino Gemelli Di Roma E attenzione Significa bambini Che sono qui E arrivano Non solo da tutte le parti D'Italia Arrivano anche Da tantissimi luoghi Nel mondo Allora Con la famiglia vicina I bambini Potranno affrontare La malattia Avendo una medicina In più Quella di avere accanto La propria famiglia Ma anche i genitori Potranno supportare I loro piccoli Sapendo Di essere sostenuti Questo è 30 ore per la vita E noi lo sosteniamo Con tutto il cuore Facendo questo numero 45516 Digitatelo Dal vostro numero Di telefono Rete fissa Oppure Con il 45516 Mandate Un sms Se donerete 2 euro Oppure 5 o 10 euro 10 caffè 5 caffè 2 caffè Perché il progetto Home Di 30 ore per la vita Diventi una casa E diventi realtà Grazie a tutti Signori Grazie Grazie